Play for Inclusion è un progetto per creare occasioni di relazione e felicità per persone disabili e per le rispettive famiglie che attraverso Estrasport Club nel centro Italia coinvolge 36 società, 5487 atleti in relative famiglie per 15 discipline sportive come il volley e il basket. L'obiettivo principale è donare ore di felicità alle persone con disabilità attraverso momenti di inclusione nella vita sportiva e sociale. Play for Inclusion mira a far sì che questi momenti di inclusione diventino col tempo una prassi acquisita e non solo occasioni estemporane. Durante queste giornate le persone con disabilità hanno l'opportunità di svolgere attività motorie e sportive e di supporto alle attività logistiche e organizzative. Vengono inoltre organizzati corsi di formazione per dirigenti sportivi e per i familiari per gli associati sempre sui temi dell'inclusione. A sostenere tutte queste attività è Extra SPA, un'azienda pubblica, una multi-utility tra le prime in Italia nel settore dell'energia. E nello sport vediamo un veicolo per rinnovare il patto con il territorio e con la nostra comunità.